Ultimo giorno di scuola davvero particolare per i piccoli studenti delle scuole Milani di Domodossola. Questa mattina sono stati consegnati alcuni giochi esterni nel cortile a fianco alla teca del Museo Sempioniano e ancora il nuovo parco giochi. Un intervento di 45.000 euro, di cui 5.000 finanziati dal service del Lions Club domese. Nel nuovo parco giochi è stato posizionato il manto verde in erba sintetica, nuovi giochi ed è stata completamente rifatta l'area della sabbiatura che è stata anche coperta. Un'area che diventerà fruibile dal prossimo anno e che ha completamente cambiato il volto di questa parte dell'istituto domese. Abbiamo portato a termine un intervento messo a punto nel corso dell'anno, una serie di interventi di riqualificazione del plesso esterno alle due scuole Milani e Rodari. Quello più serio, più corposo riguarda l'area, quella che avrebbe dovuto essere un'area verde che finalmente diventa tale, sebbene con un prato sintetico, in erba sintetica, abbiamo realizzato un piccolo campetto da pallavolo, poi metteremo ancora altre cose per la pallacanestro e quindi un intervento abbastanza corposo. Una parte di giochi sono andati all'interno della scuola, una piscina con le palline colorate, all'interno della scuola dell'infanzia Rodari. La popolazione scolastica domese è in forte crescita e sempre più multiennica. Nei prossimi mesi saranno in programma altri interventi di manutenzione ordinaria dei plessi scolastici comunali, come ad esempio l'amodernamento delle infrastrutture di rete che dovranno omologarsi all'ormai prossimo entrato in funzione del registro scolastico elettronico. A margine della cerimonia, l'assessore dei lavori pubblici Antonio Leopardi ha voluto sottolineare che nel bilancio in fase di redazione non saranno previsti tagli economici per la manutenzione ordinaria delle scuole.